A Catania ha preso il via il processo di secondo grado davanti la Corte d'Assise d'Appella Veronica Panarello, accusata dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere del figlio Loris di 8 anni. La donna è già stata condannata a 30 anni dal GUP di Ragusa, a conclusione del rito abbreviato condizionato dall'aperizia psichiatrica. Secondo quanto riferito dal suo legale, l'avvocato Francesco Villardita, Veronica Panarello partecipa all'udienza che si celebra a porte chiuse. «Ritengo che sia una giornata fondamentale, più che importante, perché non ci giochiamo sicuramente l'ultima carta, ma una carta importante perché è il secondo grado di giudizio nel quale parleremo di merito della vicenda processuale. C'è una richiesta, aggiunto il penalista, di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per una nuova perizia psichiatrica. C'è una sollecitazione alla Corte di effettuare il confronto con il suocero. Ci sono tantissimi punti dell'atto di appello che dovranno essere vagliati dalla Corte d'Assise d'Appello per poter arrivare, ci auguriamo quantomeno, ad una modifica della sentenza. Cinque giorni fa Veronica Panarello è stata autorizzata dalla Corte d'Assise d'Appello a pregare sulla tomba di Loris, ci è andata per due lunghe ore. Ho visto Veronica Panarello una settimana fa, aggiunto il penalista, e non c'è alcun tipo di modifica nella propria versione dei fatti. Dice quello che ha sempre detto, io voglio pagare per quello che ho fatto, ma assieme a me deve pagare il reale responsabile che l'ha indicato da sempre nel suocero.